Sarà Rudy Garcia, il prossimo allenatore del Napoli campione d'Italia, ad ufficializzarlo nella serata di ieri il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis che ha scelto alla fine il tecnico francese, libero da contratto e con gran voglia di lavorare in un campionato di alto livello. García, 59 anni, torna infatti in Italia dove ha già allenato la Roma per tre stagioni dal 2013 al 2016 per poi tornare ad allenare in Francia prima al Marseilla che portò in finale di Europa League e poi a Lione. Le ultime due stagioni le ha trascorse in Arabia Saudita sulla panchina dell'Al Nasr, rimosso a metà di quest'anno dopo alcune incomprensioni con Ronaldo e company. Ho il piacere di annunciare che dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi dieci giorni il signor Rudy Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo. Così il presidente De Laurentiis scrive sui social l'annuncio del nuovo tecnico che arriva a Napoli con entusiasmo ma anche con la responsabilità di portare avanti un ciclo vincente cominciato quest'anno come ha sottolineato nei giorni scorsi De Laurentiis. Il suo sogno a Napoli è tornare a vincere in una carriera che finora lo ha visto trionfare solo sulla panchina dell'Ile quando nel 2010-2011 vinse il titolo di campione di Francia e la Coppa di Francia. Firmato un contratto della durata di due anni per 3 milioni di euro a stagione. Niente Galtieri insomma, la panchina azzurra è di Garcia, l'avventura parte il 14 luglio a Di Maro.